Ciao amici, vi piacerebbe mangiare un comfort food light dimagrante? Ma non dici sempre che sono ingrassanti? Oggi è una sorpresa! Vediamo una ricettina facile e veloce per fare un piatto confortante ma dimagrante. Se vi piace l'idea mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. La ricetta è una vellutata di zucca e castagne, ma le castagne non fanno ingrassare? No! Ho spiegato come mangiarle senza ingrassare in questo video. Ingredienti per 4 persone, 500 g di zucca, 12 castagne, 4 castagne per decorare, olio extravergine di oliva, curcuma, sale, pepe e aromi. Preparazione, sbucciare la zucca, tagliarla a pezzi di 2-3 centimetri circa, metterla in una pentola a pressione, aggiungere alle castagne e insaporire a piacere. Coprire con acqua e fare cuocere per 15 minuti. Per chi non usa la pentola a pressione si può fare in padella, ma ci vuole più tempo. Quando è tutto cotto, frullare bene con un mini peamer o un frullatore. Ed ecco pronta la vellutata. Per chi ha molto appetito si possono fare dei crostini di pane da accompagnare. Proprietà degli ingredienti, la zucca è ricca di antiossidante, fibre, vitamine e minerali. Sostiene il sistema immunitario, è saziante e light con pochissime calorie. Le castagne sono molto nutrienti, ricche di carboidrati buoni, zuccheri naturali, minerali. Venivano usate come ricostituente per le loro proprietà nutritive. La ricetta è light e saziante, perfetta per le fredde serate autunnali e invernali. La sua consistenza densa e cremosa, il colore arancio e il sapore un po' dolcino sono una coccola rigenerante. Per l'umore e la linea, noi abbiamo l'acquolina. Fatela anche voi amici, scrivetevi nei commenti come è venuta, sono curiosa. E per vedere altre ricettine come questa, iscrivetevi al canale, è facile, con un click così. Attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. E se YouTube non vi avvisa, andate nella home del canale, perché pubblico ogni giorno, mangia sano e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao!